Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Oggi è arrivato il mio pacco di lana mania e chi brand e quindi come consuetudine condivido con voi i miei acquisti. Quindi farò un piccolo video per lana mania e poi un altro piccolo video per chi brand. Usciranno uno dietro l'altro. Ho l'assistente oggi che mi aiuterà, quindi ho chi mi passerà i filati e aprirà il mio pacco, quindi direi che possiamo iniziare. Allora, iniziamo il primo video con gli acquisti di lana mania, quindi assistente dal pacco, tiri fuori i filati. Ok, e me li passo. Allora, primo acquisto è un pacco da 5 gomitoli di Yarn Art Jeans Bamboo. Ce n'è anche un altro, provo a guardare, devono essercene due. Allora, le caratteristiche di questo filato, adesso le vediamo insieme. Si lavora con uncinetto del 3,5-4, sono gomitoli da 50 grammi. Andiamo ad aprire il pacchettino insieme. Piano, piano, piano. No, forse ce n'è uno solo di questo. Uno solo. Uno solo? Ok, è un viola bellissimo il filato che ho preso io e a tatto è morbidissimo. Ha un po' le caratteristiche del, guardando, cioè toccandolo, ha un po' le caratteristiche del Yarn Art Jeans per intenderci, però questo è un 50% bambù e un 50% acrilico. È veramente morbidissimo, sono 50 grammi per 150 metri. Questo è un filato estivo, vuoi toccarlo? Sì, posso chiedertelo. È un filato, no, me lo dai, è un filato prettamente estivo, con 250 grammi, una magliettina estiva, mi viene fuori senza problemi, sia ai ferri che a uncinetto. Passiamo. Sì, puoi parlare, sì, puoi parlare. Oggi facciamo una registrazione con l'assistente, l'assistente non sa stare zitto, quindi lo sentirete. Questo è invece un altro pacco. Ecco dove sono i due colori, vedi che c'era un pacco con due colori. Sì, questo. Eccolo qua, sapevo che c'era un viola che era della stessa famiglia. Allora, questo è, adesso andiamo a vedere perché io non compro. Siamo a maggio, siamo nel bel mezzo della primavera, quasi siamo arrivati in estate, ma io non compro solo cotone perché io a fine giugno inizio a lavorare la lana e ciao ciao filati estivi. Enea, non li far arrabbiare perché se no abbaiano. No, no, va bene, va bene. Allora, questo è un filato marchio lana mania, si chiama Baby Angel, sono 50 grammi per gomitolo. Questi sono i filati che piacciono a me perché è l'uncinetto consigliato, è l'uncinetto del 3 e i ferri consigliati sono i ferri del 2,5. Vediamo se riesco a farvelo vedere, credo di sì. Sono gomitoli da 50 grammi per 175 metri, quindi gomitolino piccolino, io adoro i gomitoli piccolini, per una buona, buona, buona metratura di filato. E l'ho preso, ne ho presi 5 gomitoli celeste, proprio un bel celeste, e 5 gomitoli viola. Questi io vorrei lavorarli ai ferri, quindi con 250 grammi separatamente mi ci esce sicuramente qualcosa, anche se stavo guardando, effettivamente, pur essendo due colori completamente diversi, che non c'entrano niente uno con l'altro, si sposano veramente bene. Quindi non è detto che io sia, magari, possa decidere di mischiarli. Uh, che bel pacchettino questo! Questo non sapevo neanche, non mi ricordavo neanche di averlo comprato, ero quasi intenzionata ieri, guardando la diretta, a comprarlo, meno male che non l'ho preso, perché l'ho già preso. Cerco di non comprare doppioni per poter provare più filati possibili. Amore? Ah, devi toccarlo? Ok. Questo è sempre della linea Yarn Art, si chiama Summer Dream. Qui c'è dentro sicuramente la viscosa, esattamente. Allora, è 30% viscosa, 70% cotone. La viscosa la vedete perché è quella parte luccicosa. Questo è un filato... Come genere di... Non l'ho mai provato della Yarn Art, ma come genere di filato. È un filato che ho già provato. Io adoro questi filati con il cotone e la viscosa mischiati, ma tenuti separati in questo modo. Mi piace molto l'effetto ottico che danno quando vengono lavorati. Sono gomitoli da 100 grammi per 350 metri. Io ne ho quattro gomitoli. Con quattro gomitoli ci faccio qualsiasi cosa. Ferri tre e mezzo, mentre uncinetto del tre. È bellissimo. Questo veramente è bellissimo. Guardate quante sfumature ha. Ha il beige, il marrone, il viola, il rosa. Questo è veramente, veramente un bel filato. Poi sotto in descrizione vi lascio il link sia del sito di Lana Mania, se siete curiose e volete andare a vedere, se trovate e non sono andati a ruba questi filati, anche perché poi ci farò dei progetti, quindi se volete poi seguirmi nei progetti avete almeno il link per poter andare. O se non volete andare sul sito, vi lascio anche il nome di come trovate Lana Mania su Facebook in modo che possiate andare a cercarli su Facebook. Su Facebook fanno anche delle dirette, quasi giornalmente, dove fanno delle ottime offerte. A me piace acquistare tramite dirette. È bellissimo questo, Enea, hai ragione. Questo volevo comprarlo anche a te di un altro colore per farti un maglioncino, ma siccome è peloso non sapevo se ti piaceva. Mi dà un pochino fastidio a dimostrarlo. Perché sei un po' paranoico. Però è bellissimo, vero o no? Allora, questo è un altro filato invernale, Enea ha visto questo filato e mi ha detto, era qua che parlava a bassa voce e mi diceva, mamma, questo è bellissimo, questo è bellissimo. Il mio poi è un fucsia, guardate, si abbina allo smalto che è smalto Key Brand. È un fucsia fluo, quindi molto, in camera non lo vedete, ma è veramente molto molto appariscente. Perché di questa linea, oltre ai colori tradizionali, c'è questa serie di colori che non si trovano così facilmente, se non negli acrilici, per fare gli amigurumi, se no è difficile trovare questi colori così fluorescenti. E questa linea invece c'è gli Ane. Avevo visto anche uno, proprio ieri o l'altro ieri, avevo visto Salvatore, che in una diretta faceva vedere un verde fluo, bellissimo, ho detto quasi quasi, lo prendo e gli faccio un maglioncino a Enea. Ma è un filato peloso, quindi deve piacere l'effetto angora, l'effetto mohair, l'effetto angora, perché ha questo effetto peloso e non sapevo se lui poi me l'avrebbe messo, ecco. E di fatti adesso mi ha detto il colore è bellissimo, però per me è un po' peloso, forse da uomo in generale è un po' peloso. Però ragazze sono stupendi, di fatti l'avrei comprato e poi l'avrei utilizzato per me. Questo è veramente bellissimo. Questo so, sono sicura che sarà uno di quei filati, uno dei primi filati invernali che lavorerò quest'estate. Sono 100 grammi, quindi un gomitolo da 100 grammi per 300 metri a gomitolo, 80% acrilico, 20% lana. Qui dice addirittura che è lavabile a macchina, io ho un po' di paura nel lavarlo a macchina, ce l'avrei, però non è detto che poi provo, eh. E dice l'uncinetto dei 6, i ferri del 3. Secondo me questo filato non si lavorerà mai con i ferri del 3, ma si lavorerà con i ferri più grossi. Per me, sto dicendo per me, difatti, quando l'ho acquistato avevo pensato proprio di utilizzarlo come filato per l'estate, perché, pur essendo pesante, comunque pesante, invernale, lavorato con i ferri grossi si soffre meno perché si fa più veloce. E ne ho preso mezzo chilo, quindi cinque gomitoli di questo fucsia fluo bellissimo. Dove? Ah, te lo passo e sistemi te. Ok, sistema te. Questi sono tutti stessa linea, quindi tirameli fuori, passameli tutti. Oh mamma mia. Allora, questa è linea L'Indo Nord ed è i Summer Nuance. Io di questi ho comprato un kit. Allora, adesso ve lo faccio vedere tutto. Abbasso un po' la mano e questo lo ho preso da lavorare tutto insieme, se non sbaglio, eh. Sì. Aspetta, fammi vedere. No, allora, aspetta, 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 aspetta. Questo è uno, perché qua questo è è un filato, quindi Summer Nuance ne ho preso solo due, così? Sì. Allora, ed è guarda il nome, leggi il nome, fai da solo, leggi il nome ed è della linea L'Indo Nord. Sono gomitoli da aspettate, 100 grammi, sì, questo l'ho preso da solo, per 360 metri. Ferri 3,3 e mezzo, uncinetto 3,3 e mezzo, vedendolo, sì, è quello, quello che si utilizza, quello è il kit, bravissimo Enea, ed è un 100% cotone. Ne ho presi due gomitoli e con questi due gomitoli voglio farci un top estivo. Dalla camera sembra molto verde, in realtà, sì, c'è un pochino di verde acido, ma è più sul giallo, perché questo era il filato giallo che volevo, che volevo acquistare. E qui ci voglio fare un top per agosto, quindi questo lo vedrete lavorato nel, più o meno nell'immediato. dopo, quello è chi brand? Poi, c'è ancora quel pacco là, lo vedi? Sì. Ok, adesso arriva il kit, il kit che stavo aspettando, eccolo qua, allora, è sempre Yarn Art, marchio Yarn Art, e il kit che ho fatto, che mi sono fatta fare da Salvatore, è questo. 3 bouquet unicolor, quello non tirarlo fuori tutto, 3 bouquet unicolor, tinta unita, quindi, di 3 tonalità diverse, c'è un beige, un, questo è, un, terra bruciata, un qualcosa del genere, non è arancione, è più, è più una terra bruciata, e un giallo. Questi tre, li ho abbinati, a questa cake. Adesso ve li metto vicini, e cerco di alzare un po' la camera, così li vedete insieme. Eccoli qua. Con questi qua, con questo kit, faccio venire il mal di mare, vorrei realizzare, uno scialle all'uncinetto, quindi con questo kit, vorrei realizzare uno scialle all'uncinetto. Credo di riuscire, ma uno scialle, non un bactus, è proprio uno scialle. Non dovrei avere problemi, nel riuscirci, perché i tre gomitoli piccoli, sono 100 grammi, per 200 metri, 100% cotone, mentre il bouquet più grande, gli Arnard bouquet, quindi la cake, è una cake da 250 grammi, per 500 metri, quindi in teoria ho, 500 metri, più, due, quattro, sei, uno scialle all'uncinetto, mi esce, senza problemi. e vorrei proprio fare uno scialle con il gioco di questi, di tutti questi colori. Me lo rimetti via per piacere? Sì, giusto. L'ultimo, è l'ultimo vero? Mi passi il pacco? Sì, sì, però voglio il pacco. L'ultimo filato che ho acquistato, è questo filato, ha una storia. Non ci riesce a mettere. Questo? Sì, sì, mettilo bene, se ci riesce Salvatore, ci riesci anche tu, dai che hai un futuro. No. Anzi, se ci riescono le ragazze di Salvatore, perché sono le ragazze che fanno i pacchi, quindi ci devi riuscire anche tu. L'ultimo filato che ho acquistato è il nuvola marchio lana mania. Questo filato ha una storia perché io non l'avevo mai utilizzato. È un anno che acquisto da lana mania, il filato nuvola non l'avevo mai preso. Nel gruppo, nel mio gruppo, insieme tra chiacchiere e gomitoli, su Facebook, un giorno si parlava di filati per poter realizzare un cappello, per poter realizzare una maglia, per poter realizzare un cardigan, per poter realizzare praticamente qualsiasi cosa, e le mie gruppine mi hanno detto il nuvola, il nuvola, e io non potevo rispondere perché io il nuvola non l'avevo mai provato. Quindi ho deciso di acquistarlo per provare. Ho comprato un pacco da mezzo chilo perché sono gomitolini da 50 grammi. È il classico, già deve essere proprio il classico, quindi fatemi vedere che trovo la quantità. Non la trovo. Però sono... Da qualche parte c'è, ma io non riesco a trovarla. Sono gomitoli, c'è... Eccolo qua! Ok, l'ho trovato, l'ho trovato. 50 grammi per 125 metri, quindi è il classico gomitolo di cotone. Cotone mercerizzato. È perché è lucido, vedete? È lucido. Si lavora con i ferri del 2,5 e ferri uncinetto 2,5-3,5 quindi è proprio un classico. Però mi dicevano tutte che era un filato bellissimo, bellissimo, bellissimo e quindi ho detto ok, lo voglio provare. Al tatto e visivamente vi dico che mi piace. Ne ho preso 500 grammi perché con questo che è un colore classico perché è un ecru chiaro, voglio fare un cardigan per l'estate quindi anche questo mi vedrete realizzarlo. Voglio fare un cardigan traforato adatto a tutte le taglie da utilizzare quest'estate. Penso che lo lavorerò all'uncinetto quindi penso che lo lavorerete anche voi volentieri perché quando lavoro all'uncinetto mi seguite più volentieri quando lavoro ai ferri fate più fatica però io non ci posso fare niente lavoro anche ai ferri perché mi piace lavorare ai ferri e quindi proverò anche il Nuvola che già mi fa venire idee quindi già è pronto per essere lavorato e vi farò vedere il risultato anche di questo filato che è merito delle mie gruppine se se ho acquistato perché non ci avevo pensato ma visto l'ottima pubblicità che gli hanno fatto in così tante ho detto devo provarlo devo acquistarlo anch'io benissimo ragazze non erano tantissimi filati che avevo da farvi vedere ma erano importanti ed erano un bel miscuglio di filati che valeva la pena farvi vedere adesso per me vale la pena lavorarli quindi li vedrete li avete visti così e li vedrete spero sì penso che questi li lavorerò quello che vi ho fatto vedere oggi penso che lo lavorerò tutto nei prossimi due mesi quindi li vedrete man mano uscire con i prossimi tutorial come vi dicevo in descrizione sotto il video vi lascio i link per raggiungere l'anamania web se vi interessa e se avete voglia di interagire con me e di parlare con me mi trovate su facebook e nel gruppo insieme tra chiacchiere e gomitoli se avete voglia di iscrivermi anche qua o lasciarmi un like un commentino un like un coricino qualsiasi cosa a me fa piacere e mi aiuta anche a crescere ed è un modo comunque per interagire anche su youtube ho parlato per 16 minuti ora vi lascio vi ringrazio e io passo alla registrazione anche del prossimo video che vedrete che sarà quello di Keybrand ciao a tutte grazie grazie a tutti